Adesso atteguiamo il premio al miglior film e il premio Kodak Short Film Award, invito Giovanna Rimodi della Kodak, il famoso premio, il bellissimo premio della Kodak, che al di là dell'oggetto sono 3.000 euro in pellicola cinematografica negativa per realizzare una nuova opera. Sostenere la pellicola ho premiato Luca di volte, ha premiato anche Susanna, era l'anno scorso a Controcampi Italiano a Venezia, anzi due anni fa, l'anno scorso a Settembre ha vinto un altro film, quindi lei girerà con la nostra pellicola al prossimo film, Luca ormai è girata tanta e quindi auguro a questo vincitore che tra poco salirà sul palco di avere un ottimo futuro di regista. Speriamo. Procedo? Proclamo? Sì, proclamo. Allora, il premio miglior film è il Kodak Short Film Award, va a Il pianeta perfetto di Assutilo Smeriglia, costruzione lineare ma paradossale di un universo più realistico che fantastico, canzone narrativa, lavori su questo modo, giochi di silenzio con animazione divertente, acuta e spiazzante. Assutilo Smeriglia alias, qualcun altro però, il nome d'arte va bene, non voglio rimanere troppo, è qui. Buonasera, io non ho niente di molto originale da dire se non che sono molto felice di questo e anche se forse non potrei dire sono anche un po' stupito. La sensazione non siamo usati noi stamattina, ma anche noi siamo stupiti e mi è andata così. Grazie. Non ha rivelato il suo... Si, si, si.